salve a tutti benvenuti bentornati come sempre invito a iscrivervi lasciare un like condividere commentare e voi ve lo ricordate il programma di fidelity mille miglia di alitalia e vive vegeto non si è estinto il 14 ottobre 2021 alitalia ha cessato di volare ha spiccato il volo ita airways che non ha potuto acquisire in base alle indicazioni della commissione europea il programma di fedelizzazione di alitalia ha creato un suo programma di fedelizzazione volare però non esclude la possibilità di poter stringere un accordo commerciale con quello che sarà il futuro acquirente di alitalia loyalties che gestisce il programma mille miglia ora il programma mille miglia continua a essere vivo e vegeto su mai mille miglia è possibile accedere alla propria area riservata chi conosce il programma mille miglia sa che sicuramente era finalizzato alla raccolta miglia per poi poterlo utilizzare nel riscattare le miglia per un biglietto aereo ma è anche vero che si potevano accelerare quella che era la raccolta di miglia con partner commerciali e si potevano riscattare anche sotto altra forma quindi non solo biglietti aerei e il programma continua giusto per un esempio last minute punto com booking autonoleggi alberghi e tanto altro è possibile continuare ad accumulare miglia è possibile anche trasferire miglia punti punti miglia da kuwait da payback payback che è un altro programma di raccolta punti con anche payback partner insomma il programma è vivo e legge tra l'altro è possibile anche avere biglietti aerei con ad esempio KLM quindi non è detto che bisogna solamente vedere ad Alitalia oramai Alitalia è un pezzo della storia italiana del nostro passato con tanto orgoglio mi auguro che il brand Alitalia possa essere utilizzato in futuro da Ita Airways per qualche operazione commerciale specifica però nel frattempo possiamo solamente guardare avanti quindi in Ita Airways è arrivato volare però mille miglia continua ad accompagnare tutti quanti gli iscritti non come prima però chi può mai dirlo forse sarà meglio io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao